ed eccoci qui in questa bruttissima selva scura e come al solito qui c'è cappuccetto rosso e come al solito sono in compagnia di allora e sono iniziato ok io già sono iniziato ci e lo capo e lo sapete qual è il mio problema ma io la sensibilità del nostro colpo e te bossino ammazza perché sono più e te bossino ammazza acqua devo andare più c'è sto morendo il nuovo da pc bbc cbc sicuramente mi stai dicendo che sia tradotto la miglia quindi io te la faccio basta per tutto e se se sì sì la 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 guardate la cosa c'è capito che questo livello sarà lungo e potrà cinesi che deve essere lungo il mio bene lui non è che c'è la cosa cosa vuoi vero stronti oggi prima di andare a berlino ne ho prendere la data la nostra data la nostra data di nascita ma lo sparate questa persona a favore piccola picco e ma io sono arrivato finito il livello pezzo del livello io sono arrivata ai laser pure io non voglio ma è possibile questo laser ho capito no aspetta blitz blitz ma non ho capito no io ho capito bebe inizia a mettere i bip è bello montare video con emanue quando c'è inti minecraft italia sulla materiale il blu posso eserci sopra del quad e ho finito Devo prendere No 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 Come hai fatto? Devi fare così Emanuele Diventare rosso appena sali su quello Su quel coso blu Poi subito giocare È il problema che ci crevo arrivando a quel coso blu bro Eh ma devi schivare con le cose verdi Non è difficile Oh quanto? Devo diventare rosso quando arrivo là giusto? Sì Maronna mia Poi subito andare a sinistra Risaltare con lo sprint però E poi riprendere la cosa Io non ho preso la data ma me ne passo per i coglioni Ma neanche io ragazzi che c'è in questo video No ma aspetta È l'ultimo? Non posso Nooo Dobbiamo prendere le date Ecco cosa servivano le date Ok io inizio dal livello 3 che ne ho prese due Level select Dunque io devo andare bam 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 Pure io dal 3 Eh ma ho capito che si prende quello del 3 Mi ricordo Ho rivisto il video Nooo Eh ma Ok ragazzi Questo è la mia Dove stanno? È la fine del Dove sta la data? Io No Eh ma devi riprendere tutte però Eh dove stanno? Devi scendere La prima sta al primo livello appena inizio E poi? Beh non lo so Ma come si fa a prendere col cubo rosso? Maronna mia peper ma se la mente dice Ma ecco qua Abbiamo fatti sti livelli peper Appunto non mi ricordo niente E infatti in questo episodio si chiamerà la peper Ok l'ho fatto Non è la fine peper perché non ce lo faremo mai a prendere tutte le cose adesso In 5 minuti ci riusciamo Porco diiiiiiii Non sai quante ti servo? Eh porco du 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 Quanti fragmenti ti servono a te però? Non lo so bello Eh c'era scritto là A me 9 A me 11 Ragazzi questa è la Forse sarà il video più lungo di Polarity E forse lo metteremo tutti No no Allora io riflettiamo Il primo Ok Il primo Il secondo Il terzo Ok Comunque non lo so Non lo so Non lo so Non voglio sapere Ok Il due L'altro Porco du Ok Comunque non lo so Comunque non lo so Ok Ok Scusatemi se non ho parlato Poi mi ho problemi A casa Ok Eccomi Ok Ok Paper è morto Cioè Paper ci ha abbandonato Ok stavo parlando E' mortato Yeah Beaches 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 Eh ma è presso tutte le date del livello 3 Paper io sto a livello 2 Come è livello 2 Come è livello 2 Sto a livello 0 2 Che ancora dovevo prenderla Tutto Madonna ragazzi White White Mi Ma guarda che sono rossi Quelli la che non ho fatto Ma dai Ma dai E paper ma io qua Mo ci metto la testa Cos'è no? Io no Perché mi ricordo Ecco ho capito Eh ma a livello 5 Ho capito come si fa Come si fa No paper Tu devi capire qua Forse non hai capito niente A livello 3 Penso Porco di 5 E io quella data là su Bra Quale sei livello 5 No poi per esso Quella la che si fa La gira gira Livello 3 o 4 Si fa Giro giro Dunno Non ha cazzato Emanuele appena Rigiri Rigira tutto quanto Prendi il cubo Piazza Quelle cose Prendi il cubo Piazza E sta alla fine Cazzate Ma non ha prendere Quella data Ma tu non hai preso Quella data Sicuramente hai preso Non hai preso Un'altra data E' infatti Ma me la dici Quella della fine Del livello Eh ma infatti Un attimo Un attimo Stavamo parlando Il dato Ma oggi che data Che fino a dove sta Non l'ho preso Sparati Emanuele Era quella là Che non l'aveva preso Bro Broccoletto Broccolone Non hai preso Quella delle fine Del livello Secondo me Asperi per me Me ne mancano 1 2 3 4 5 6 Io non so Quanti me ne manchi Cioè a me Mi mancano 6 livelli Vedi sono quelli La russi Devi concluderli Tutti Vabbè Allora Eh si lo so Questo video Sarà molto tagliato Ma io non lo togli Io lo togli Come blocco Questo gioco è bugato Però Sessamente bugato No Ma sono un coglione Viper è un coglione Viper è un coglione Un coglione Ne Viper è un coglione Dimmi che vai Oh mio dio Viper è tutto Tutti devi guardare i video E ti devi vedere Dove si è fermato Al minuto Dice qualcosa Ah si Perché tu non tagli Io non taglio Ma che devi tagliare Che se bestie mi fai Quelle sono la migliore scena Ma che te frega No Io lo faccio più corto Ma che te frega 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 Non nel senso Cioè quello è il divertimento Se ti taglio la scena Dove inizia a bestemmiare Cioè Non c'è Non quello Non c'è divertimento Di con le parti mosche Dove non parli Dove non fai un cazzo Ah no Io prima non ho parlato Ma non era per noi Cioè ci avevamo mai Stati A me tutte le ultime Non c'è un cazzo Ma quello là di LOL Bello Oh mio dio Io me ne stavo andando a fare Eh persone non sanno Che noi stiamo preguiti E ok Ecco Scusatemi Ho concluso il livello Comunque intanto Intanto È venuto MAMIT Entra MAMIT Nel video Di po' Attenzione MAMIT Ciao MAMIT Saluta Ma chi siete Siamo Gesù Buongiorno Paper da quanto Stiamo recando Perché amiglio C'è un video Sennò veniva Però lo taglio No io non taglio niente Faccio bene MAMIT Soprattutto se tu mi conosci Secondo me Visto che ce l'hai lungo Te lo devi tagliare Oh mio dio Ragazzi Con che pressione sto Mi eccito Però se me lo dici così Allora Oh mio dio Queste parti Non le taglio Tra una Vai taglialo Taglialo La smetti MAMIT Di farmi eccitare Cioè entri Mi fa eccitare Poi se ne va No Sto cadendo Sempre come Ecco un altro Pippo Questo video Come se fa Io non farò mai Una parco Una mappa parkour Assieme Emanuele No no Tu fai tutto Come Una mappa parkour Conte Una marca Al parkour Significa tutto Pestemi Allora Significa tutto Il bello Madonna Io ho fame Io finisco I livelli Finisco Mamma mia Ma tu Bello Non lo sai No abbiamo finito Polarici Per l'ultimo livello Non abbiamo preso Tutte le date Cioè che sarebbero Cioè che sarebbero Cazze Di livelli Non so se ti sei visto Le anime I video Eh tipo Le anime Per farti fare L'ultimo livello E mo ci stiamo rifacendo Tutti i livelli Tutti i livelli Me ne mancano Me ne mancano quattro Mamma mia Perché non avete preso Con la merda Lì Sì Allora Paper io li faccio Cioè li faccio Nel prossimo video Perché stanno iniziando A diventare difficili Quindi Continuiamo Nel prossimo video Ricordate di seguirci su Facebook Google Plus Twitter Nel cesso Nel prossimo video Se tutto va bene Non siamo incapaci Di fare questi quattro livelli Sarà la fine C'è la fine C'è la fine Ma non è la fine Paper secondo me Inizia quella alla coppa E quella coppa Dobbiamo star coppo Eh A tutti Bella Grazie a tutti